Amici di Bicisport e di 12sport.it siamo con Dario Marini, osteopata del team UAE Emirates siamo sul passo del Turchino, tra pochi minuti passeranno i corridori ma vediamo cosa c'è nel secchetto di Tadej Pogaciar i corridori del team UAE come tanti altri corridori si preparano anche quindi a rifornirsi Allora Dario, se ci vuoi illustrare un po' il secchetto di rifornimento di Tadej Pogaciar Cosa c'è qui dentro? Allora, c'è una borraccia di acqua, una borraccia di malto, sempre prodotto Enervit quindi un'acqua, un malto, due gel, normal gel di isotonici della Enervit, due power barrette una coca, una coca piccolina, un rice cake, quindi una tartina di riso sostanzialmente ipercalorica, un panino alla Nutella e un altro gel la cosa importante è che oggi, visto che è una tappa molto lunga, abbiamo due rifornimenti due fit zone, quindi due sacchetti, che è una cosa strana perché di solitamente c'è un rifornimento solo per ogni tappa ma oggi, visto la lunghezza dello stage, esatto quindi il secondo dove avrà? avverrà circa ceriola ceriola che non è un po' più avanti, quindi squalirato il tuttino tutti i corridori hanno lo stesso, diciamo, il contenuto del secchetto di rifornimento tutti i corridori hanno lo stesso, esatto, tutti hanno lo stesso ultima cosa, stamattina colazione, sappiamo, insomma, Andre Autman ieri ci ha parlato un po' della colazione la sveglia presto, cosa ha mangiato tra te stamattina a colazione? eh, sicuramente ha mangiato, ha fatto una bella colazione carboidrati carboidrati, pasta, un po' di porridge, un po' di frutta secca e frutta fresca e già ieri sera hanno cominciato a fare un po' di una cena leggermente diversa, un pochino più calorica ok comunque seguiamo, diciamo, le linee che ci dette il nutrizionista chiaro è tutto controllato di squadra e poi chiaramente anche il metro, l'incidenza non è comunque faccato quindi insomma non c'è bevono un po' di meno magari visto anche il clima un po' più freddo rispetto a una tappa di finato periodo insomma dell'anno chiaro, ti ringrazio, lo lasciamo a suo lavoro perché il gruppo come detto sta per partire e qui ci sono i sacchietti chiaramente del Timuane da distribuire a tutti i corridori e a voi metto, la volta devo cacciare grazie, buon lavoro grazie di tutto, buon lavoro ciao